La vanga in campo è il terzo libro di Francesca Muzzi. Nel corso della presentazione non solo ha esibito il libro ma addirittura la vanga proprio per dare l'idea del contenuto di queste storie che raccontano il calcio vissuto a livelli dilettantistici. Sì sono le storie del calcio dilettanti. Andiamo a raccontare 30 storie che arrivano da tutta Italia quindi dal nord a sud e sono storie molto particolari molto caratteristiche molto simpatiche alcune meno alcune di più che raccontano appunto il mondo del calcio dilettanti cioè del calcio come si suol dire pane e salame ma qualche volta ci vuole anche una salsiccia e ma leggete il libro però per questo. Perché ti sei dedicata al calcio dilettantistico? Per raccontare storie divertenti o anche per dare un messaggio? Allora questo libro che parla appunto di calcio dilettanti perché io un po' devo qualcosa al calcio dilettanti perché è stato ed è tuttora il mio lavoro. Ho iniziato proprio con i dilettanti, ho iniziato con i campi in fango a seguire squadre di calcio dove non c'erano riflettori, dove non c'era qualche volta le righe del campo che venivano fatte la domenica mattina. E racconta di arbitri, di dirigenti e anche un aspetto un po' quello che è il sociale del calcio perché in un paese quando sparisce la squadra di calcio e quando non c'è più significa che non ci sono più i giovani. E quindi questo è il nostro calcio, la nostra vanga in campo. Poi leggendo il libro capirete perché la vanga in campo. C'è una voglia di ritornare al calcio di una volta. Cito un esempio, il centro storico Le Boschi a Firenze che è diventato un fenomeno sociale. Grande seguito, tanti tifosi che si stanno appassionando, una curva addirittura che è stata intitolata a Moana Pozzi. No, ma c'è bellissimo. C'è proprio questa voglia anche di ritornare al calcio genuino, questo calcio appunto fatto di tanto volontariato, tanta passione, tante persone che ogni domenica si spendono proprio per le squadre di calcio. E quindi sì, c'è la voglia di tornare a questo, ma è una voglia che c'è sempre stata e sempre ci sarà. Come stasera appunto ci diceva il presidente, uno del consigliere Mario Tralci appunto che ci diceva che loro avevano paura dopo il Covid di perdere il 30% delle squadre, invece non hanno perso nessuno e questo significa che c'è tanta voglia di tornare proprio a questo calcio. E una delle cose carine che mi ha fatto anche, dato in là per scrivere questo libro, è stata, mi ricordo di una telefonata in redazione che arrivò una domenica sera e mi dissero, noi non siamo stati, era successo qualcosa, noi non siamo stati, la colpa è dell'arbitro. E poi volevo anche aggiungere un'altra cosa Massimo, che la prefazione di questo libro è stata fatta da Gabriele Gravina, dal presidente della FIGC. Il presidente ha letto il libro, gli è piaciuto e ha voluto sposare questo progetto e per me è un grandissimo onore. Allora, Francesca Muzzi vi aspetta in tutte le librerie con Lavanga in campo e altre storie, folli storie del calcio minore. Edito da Ultra.